Ben tornati a SOS Arezzo TV buonasera Beppe Marconi noi avevamo invidia di te perché perché tu c'hai il lago bello e allora Arezzo vogliamo iniziare a fare un altro tipo di lago bellissimo tra l'altro lago di c***a ma insomma c'è anche le isole vedo siamo cominciamo a dare le coordinate siamo nella zona delle cave di Quarata una zona di cui da tempo si parla del inquinamento delle falde acquifiche qui si inquina questa è questa acquitrino che ci è stato segnalato questa è una fogna possiamo dire che ci hanno segnalato da un cavatore no passando di qui mi sono fermato e ho detto dico scusa ma questo cos'è e dice purtroppo sono gli scarichi che vengono fatti dalle lottizzazioni nuove che logicamente o hanno i depuratori che non funzionano oppure non hanno niente e buttano tutto così questa è veramente l'indecenza guarda che si possa permettere nel 2017 una cosa del genere quando si dice di tutelare l'ambiente guarda quel lavoro è una cosa impressionante qui ora mi immagino quando arriva l'estate qui tra zanzare mosche e ogni topio ogni pentitio ci sarà che nessuno sono scarichi che arrivano direttamente dalle abitazioni e da quello che vengono secondo te dove vengono qui non c'è intorno non c'è anima viva di aziende anche di allevamenti non c'è niente questi sono scarichi sono venuti fuori da quando hanno fatto le nuove utilizzazioni che sicuramente hanno i depuratori che non funzionano e questo è il risultato guarda che veramente è una vergogna davvero quello che abbiamo documentato in via buco della montefeltro è niente rispetto a questo ma io dico l'asle che sono tanto attenti ma dov'è per trovarlo cioè oggettivamente qua lì c'è la strada si ho capito ma chi è che viene qui c'è la strada come si chiama quella strada è la strada che è da Campoluce Porta Tarezza il famoso stradone di Campoluce perché questa è una strada sterrata io l'ho visto dalla sua passando dalla strada sì dalla strada si vede però non è che c'è le pattuglie da asle che vengono qui a vedere andrebbe segnalato lo faremo lo faremo allora siccome facciamo qualche SOS nelle zone come questa di **** te lo posso dire sì dillo ah ma chi c'è? ho sentito anche l'odore allora facciamo il giro di queste zone una volta al giorno e poi glieli porti tutte andiamo con te vediamo un po' cosa ci dice l'asle perché veramente è una vergogna questo qui la pestilenza penso che sia la cosa minima che si possa prendere perché poi quest'acqua quella che rimane qui poi va sotto va sotto e inquina tutto questa inquina tutto inquina tutto le fa d'alquifere perché dalle abitazioni a parte gli scacchi umani fisiologici ci sono anche i scacchi genici ci sono i detersivi e tutto quanto e qui ci vede il dipendente guarda qui questo è bottino allo strado puro come si dice? non bottino quello dell'aria furtiva proprio bottino bottino come si dice ad Arezzo no adesso si dice buttino butti con la U è buttino proprio veramente la nostra chi ha gli ortichi potrebbe venire tranquillamente prelevare per concimare perché concime però c'è anche pesticidi è tutto incluso qui c'è gli ben di Dio non gli manca niente sicuramente beh insomma è un qualcosa che segnaleremo perché come siamo intervenuti in altre volte cioè dopo i nostri servizi diciamo alcuni problemi sono stati risolti cercheremo di portare all'attenzione soprattutto della ASL ma anche il comune forse se ne dovrebbe interessare e chiamare la ASL per e qui si parla di salute pubblica poi abbiamo sbandonato tanto qui l'intinamento qui cosa c'è per i proprietari di queste case ci sarebbero delle sanzioni cosa scatta? eh sicuramente ci sono delle sanzioni sicuramente devono intervenire immediatamente sui loro depuratori in modo tale da mandarvi acqua pulita se ne sono accorti che magari a distanza di diversi spazio c'è questo scarico ciao a tutti non commenta non commenta buono scarico a tutti ci vediamo al prossimo discarico